Questo pennello è il mio preferito per l'applicazione del fondotinta, è un po' strano perché non ha il manico e la prima volta che lo utilizzate vi dà una sensazione molto particolare ma vi assicuro che funziona benissimo Ha le setole molto dense e per questo riesce a stendere una piccolissima quantità di fondotinta su una grande superficie, quindi abbiamo un effetto molto naturale, zero strisce che fanno tanti pennelli E soprattutto essendo anche così grande ci mettiamo 3 secondi a fare l'intero viso, se volete provarlo è il 213 di Real Techniques e per me è super approvato